perché il San ha ripreso una notte brava di Mario Balotelli, qui l'hanno beccato a uscire pescato, a uscire alle 3 del mattino da uno strip club, si chiama X in the City, lo strip club, secondo il giornale ha lasciato il locale di Liverpool alle 2.45 di ieri, il giocatore scrive che il giornale era sobrio, è inutile sottolineare però che il comportamento non sia piaciuto per niente al manager Roberto Mancini, il tecnico del City, avrebbe voluto schierare balotelli al primo minuto.